Sulla carta iniziamo ad avere dei numeri buoni, però Teglio sicuramente ha recuperato ma va gestito. Pasquale è uscito non nelle migliori condizioni da Reggio e si è allenato solo oggi con la squadra. Ritorniamo al discorso della gestione perché sicuramente ci sono tanti giocatori che stanno rientrando e che a livello di condizione adesso dobbiamo cercare di fargli fare un po' di minutaggio. Noi dobbiamo pensare comunque che domani per noi è una partita importante perché uno giochiamo in casa e vogliamo continuare a fare cose importanti, non ci vogliamo fermare, sappiamo che il Palermo è in difficoltà come lo siamo noi. È uno scontro diretto e quindi dobbiamo essere bravi, io l'ho paragonata una finale e come dico sempre le finali non si giocano ma si devono vincere. In casa devi osare di più, in casa devi avere quella personalità, quella arroganza a volte di osare perché poi magari fuori casa vai e sai che ci può stare, in casa sei un po' più conservativo, hai un po' più paura e magari ti viene il braccetto. Però io penso che al di là di questo la squadra è in crescita, chiunque adesso sta rientrando ha capito quello che mi interessa, ha capito quello che voglio, stanno piano piano assimilando le mie idee e questo sono molto contento perché la disponibilità l'hanno sempre data. Per quanto riguarda Pastina se non ha smaltito dopo una settimana vuol dire che c'è un problema, noi dobbiamo essere bravi già in campo a cercare di eliminare questi errori che nel calcio esistono. Io gli ho sempre detto che comunque uno non può perdere un tempo a pensare a quello che è stato, l'errore fa parte dello sport e quindi deve cercare di azzerare subito ma non solo lui, tutti quanti. Lui si è allenato bene tutta la settimana, l'ho visto bene, anche sotto il punto di vista del peso che inizialmente magari aveva qualche problema, adesso fortunatamente tutti quanti sono rientrati in un peso adeguato e questo sicuramente è un segnale importante. Simi è rientrato e adesso lo stiamo mettendo anche lui in forma, spero di dargli un po' di minuti a questi giocatori che sono rientrati, forte è un attaccante che comunque come tutti quanti vive di gol. Io ci parlo spesso con lui, mi piace come ragazzo perché anche lui è sempre positivo dall'anima in allenamento e io ho spiegato che alla fine questi periodi per gli attaccanti arrivano e vanno superati con la serenità. Vanno superati con la serenità. La Gumina invece sicuramente sarà emozionata, sicuramente sarà una partita speciale per lui ma si deve ricordare che gioca nel Benevento e deve fare gol per il Benevento. Ciano come Veseli sta recuperando, le cose stanno andando molto bene, non so le tempistiche perché poi dipende sempre dai dottori, però siamo fiduciosi sotto il punto di vista su Ciano e Veseli.